Sono Riccardo Forconi, facciamoci vitture da ormai 15 anni, adesso ultimamente mia moglie sta facendo una collezione di gioielli anche, la collezione si esprime su perlami invecchiati, fibbie, vintage, insieme di pietre colorate, lavorando soprattutto sui materiali, sulla morbidezza e la qualità. L'ultima creazione sono due cinture, tutte definite a mano, da ragazze fiorentine molto brave, che abbinano i colori su perlami invecchiati nostri, con le cinture uniche e anche ripetibili, nessuna è uguale all'altra. Certo ho cominciato con questi diamanti neri, che abbiamo deciso di fare una linea di orecchini, bracciali e collane e poi abbiamo aggiunto delle altre cose, tipo di cazzini tutti bagnati in oro, argento bagnati in oro e niente, è nato così, una piccola linea di gioielli. Se vedete il nostro successo è essere sempre attualissimi, soprattutto realizzare una grande qualità che ci comporta comunque da avere clienti sempre fedeli al marchio e all'immagine del prodotto. Grazie a tutti!